partite aspetta ok ragazzi voglio bere le intense dentro erasmus scena 4 prima no non ho dato azione l'azione è il verbo è il mio stop io devo dare azione il mio stop siete dentro la scena quindi finchè io non do stop finchè non è l'azione siete non esistete va bene azione dai vediamoci che avete fatto in questi 3-4 mesi che non avete visto che abbiamo fatto io sono stata a casa ho dovuto cercare lavoro ho pulito la casa che c'era un casino e cose io ho conosciuto lei in un corso di ballo molto bravo sto con lei da 3 mesi tu che fai? io sto devo cercare lavoro sto in un periodo di così così mia ragazza non la vedo quasi mai si sveglia si sveglia alle 9 anzi alle 7 si sveglia esce a casa dalle 9 e torna alle 10 di sera molto impegnata eh? mamma mia non la vedo mai quindi dove sei? io sono cubana bello sono qui da un anno oh ma che fai stasera? no stasera c'ho da fare sto lavorando non puoi venire sono troppo impegnata ma prenditi 2-3 giorni di ferie oh amore sono troppo impegnata facciamo un'uscita andiamo da qualche parte sto a fare prove un po' di tempo per noi dai vabbè una serata stasera se la possiamo pure fare vediamo vediamo se posso chiediamo a mangiare una pizza o qualcosa vediamo se posso vediamo se no amore stasera se andiamo io e te andiamo fuori il cielo vabbè aspera che fai? se abbiamo qualcosa da bere se abbiamo qualcosa da bere si 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 cameriera si vieni un attimo che c'è a me mi porti una bottiglietta d'acqua? naturale liscia ah due te? a me frizzante pure a me acqua a me naturale tre naturali e una frizzante no 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 non fumo manco fumo? si no non fumo, fa male no lei vuole essere in linea una ballerina precisa una ballerina deve mantenersi in forma ma è bravissima l'ho vista io si da quanto tempo balli? ballo da piccola solo così ballo da 5-6 anni quanto? che hai cominciato mmm è bravissima però vabbè io non sono bravo come lei però e te stop ciao ciao Grazie.